Poi, ecco qua, torno, ciao. Allora, comenta la partita, 64-61? Ma è una bella partita, più di l'altro, ovviamente, perché abbiamo vinto, ne abbiamo bisogno per la classifica, perché, ovviamente, piangeva. Se avevo venuto il campo, se avevo anche vinto, se avevo anche vinto, se avevo venuto il campo, se avevo anche vinto, per cui, vabbè, era un po' difficile, ovviamente, loro non sono primi per niente, insomma, 34-2. Però, alla fine, va bene, insomma, ci avevano dato tutto, magari sul piano del gioco, avevano giocato benissimo, probabilmente c'era l'intensità che era mancata sicuramente nelle altre partite. Perché 7-2, cioè, 0 su 7, era troppo... Allora, facciamo l'intervista con lui. Io volevo solo ringraziare i guffi che non sono annunci e sono stati a casa. Tanti guffi! Non so perché non mi siamo annunci, io, appunto, ammetto che è successo un po' di vagate. Va bene, a partire di Soutermann è andata, adesso questo non vinta, andiamo la prossima. Adesso ci trottona, quindi... Eh, è un altro bel campo, difficile ovviamente, loro si mettono in una squadra, l'andata abbiamo vinto, l'andata è andata bene, però loro penso che rispetto all'andata c'erano diversi, non dal punto di vista dei giocatori, ma nella mentalità. Lo siamo anche noi, però sicuramente questa vittoria è buona, c'è la morale, certo. Questa è una vittoria di sempre per tutto morale, classifica... Sì, sì, ma secondo me più di altro per il morale, va bene, classifica non è bella, però morale secondo me era ancora peggio della classifica. Sì, è stato anche il campus, vista che aveva 10 punti con noi. No, no, ma per il morale è importantissimo. Perfetto, grazie troppo. Grazie.